Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Iniziamo il nostro telegiornale facendo il punto della situazione sui controlli e sui dati del contagio per l'emergenza coronavirus. 28 le violazioni contestate per i divieti di spostamento su 1.446 controlli effettuati dalle autorità nella giornata di ieri per l'osservanza delle misure di contenimento previste nel decreto legge. E' quanto comunica la prefettura di Pesaro e Urbino annunciando anche delle irregolarità a due titolari di attività sul territorio su 473 esercizi commerciali verificati. Il prefetto Vittorio Lapolla ha disposto nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica un'intensificazione dei controlli su tutto il territorio in occasione dei prossimi due fine settimana caratterizzati dalla festa della celebrazione della liberazione e della festa dei lavoratori dove saranno impegnati al fine di rispettare le norme di contenimento tutte le forze di polizia, militari delle forze armate e polizia locale. La prefettura inoltre comunica attraverso una nota stampa che continua il suo impegno anche alla verifica delle comunicazioni inoltrate dalle imprese che intendono proseguire l'attività produttiva. In dato di Erna, fa sapere, sono state protocollate 1431. Di queste, una parte, 1176, la trattazione si è conclusa con esito positivo mentre 249 è in corso l'istruttoria. Invece per sei imprese è stata disposta la sospensione dell'attività. Sul fronte della sanità marchigiana invece sono risultati 76 tamponi positivi. su 1.440 analizzati nelle ultime 24 ore, un numero che segna una brusca risalita nei nuovi casi in calo da diversi giorni, in contemporanea con l'aumento dei test processati giornalmente. In totale i casi positivi registrati sono 6.028 su 33.113. Dato positivo in costante crescita invece è quello riferito ai dimessi e guariti che salgono a 1.890. dato positivo anche per le terapie intensive degli ospedali. A Marche Nord i ricoverati sono scesi a 8, mentre al Torrette di Ancona ha due pazienti. Ormai diciamo che sempre più si sta parlando di fase 2, di riapertura. Ci sono alcune regioni come il Veneto che stanno scaldando i motori già da tempo, ma soprattutto per le città costiere si apre un'incognita che è quella della stagione balneare. È vero sì che negli stabilimenti balneari, un po' di tutta la costa, non solo marchigiana, ma anche dell'Adriatico, si stanno iniziando i lavori di preparazione. E allora nel prossimo servizio di Francesco Salvago vediamo proprio qual è la situazione negli stabilimenti balneari. Spiagge deserte, stabilimenti balneari vuoti. Lo scorso anno, in questi giorni di aprile inoltrato, già i primi amanti della tintarella cominciavano a frequentare gli arenili marchigiani. Quest'anno si spera di riaprire nel mese di giugno tra lettini e ombrelloni. Lo chiedono a gran voce i titolari degli stabilimenti balneari che nella regione Marche sono 873, con 3.147 addetti. La crisi dovuta alla diffusione del Covid-19 sta provocando un crollo del fatturato del turismo. Secondo le stime elaborate da CNA Marche, i ricavi del settore subiranno una diminuzione del 75% dell'anno in corso. È chiaro che dobbiamo metterci in testa che anche le spiagge, come qualsiasi altra attività, dovranno attenersi a queste nuove norme comportamentali. Parliamo di distanziamento sociale, significa che più di 5 persone non potranno stare insieme, non potranno fare assembramenti. Quindi ci potremo purtroppo dimenticare le grandi feste. Intanto nelle spiagge gli operatori balneari si adoperano per i primi lavori di manutenzione delle concessioni, dopo il via libera della regione che consente previa comunicazione al prefetto di procedere alle installazioni e agli allestimenti stagionali necessari, i ripascimenti e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le dovute precauzioni. In attesa delle linee guida del governo sono al vaglio varie ipotesi su come affrontare al meglio e in sicurezza la stagione estiva. Se nella vicina Romagna gli operatori balneari valutano accesso a numero chiuso, steward impegnati a far rispettare il distanziamento, i marchigiani rispondono così. Penso che sia una cosa giusta per la sicurezza sia nostra che anche di tutti quanti i turisti che vengono. Sarà un impegno, quest'anno è l'anno zero si dice, è una cosa totalmente nuova e dobbiamo capire come funziona. Ci devono dare delle indicazioni perché ormai la stagione è alle porte, perciò ci vorrebbe anche per organizzarci, per sanificare tutte le cose, per sapere cosa dobbiamo acquistare più che altro. Sono al vaglio anche dei pannelli in plexiglass, si ipotizzano varie cose, secondo lei è fattibile una cosa del genere? Facciamo più morti con i pannelli in plexiglass che con il coronavirus, perché a 50 gradi dentro a una serra solo le fragole ci nascono. Una cosa giusta da farsi è quello del servizio sotto l'ombrellone e al tavolo, così evitiamo di assemblamenti al bar e lì è così. Un'altra cosa fondamentale secondo noi è esclusivamente plastica, solo plastica per una questione di sicurezza. Io penso che bisogna sanificare i bagni e prendere eventuali precauzioni. Però non ancora sappiamo niente, più che altro gli ombrelloni, perché le spiagge sono piccole, l'erosione avanza sempre di più. Non sappiamo, perché non sappiamo neanche se riesci a aprire, perché se devi mettere pochi ombrelloni, farci le spese sopra, conviene star chiusi. Ha avuto già delle conferme per la prossima stagione? Sì, sì, ci sono, sì, quelle ci sono, però non sappiamo qua. Se non ci dicono come fare o se conviene o non conviene, non sappiamo niente. Restano anche diverse questioni da verificare, anche per l'apertura o meno delle spiagge libere, ma intanto i bagnini sono fiduciosi. Allora, noi abbiamo deciso di partire, se riusciamo, per il 4 di maggio. Penso che dai primi di giugno, spero, se non altro, di cominciare a tirar fuori qualche lettino, si spera. Per il suo stabilimento ha avuto già delle conferme per quanto riguarda la stagione da parte dei suoi clienti? Sì, ma in tantissimi mi chiamano. Io ricevo 5-6 telefonate al giorno per sapere come si devono comportare, vogliono prenotare, hanno voglia di uscire, hanno voglia di venire al mare. Però ci sono queste restrizioni, logicamente, che noi non prendiamo né prenotazioni perché non sappiamo cosa dire e cosa fare. E perciò è tutto così, siamo spiazzati. E sempre sulla fase 2, tra i tanti settori che dovranno ricominciare la loro attività, c'è quello della ristorazione che forse più di altri ha tante incognite davanti a sé. È la ripartenza ormai, in vista del 4 maggio, il tema al centro del dibattito in queste giornate. La fase 2 e i suoi criteri che ci accompagneranno a data da destinarsi si compone di tante tessere, un mosaico complesso in cui vita privata e lavorativa si mescolano inevitabilmente. Ma se per alcuni ambiti, i contorni e le strade da percorrere sono più chiari e delineati, vedi industria e sicurezza sul posto di lavoro, per diversi settori pronti o meno a ripartire, le cose sono un po' diverse. Ci riferiamo al settore della ristorazione, il quale, nel marasma di ipotesi maturate, condizioni e limitazioni da rispettare ha molte incognite davanti a sé. Varrà la pena di stare aperti, lo spazio utilizzabile sarà un giusto compromesso tra costi e ricavi e come risponderà la clientela a queste nuove condizioni di servizio. Nel frattempo che queste nebole si dissolvano, però in molti hanno preso il cuore in mano, soprattutto in questo mese, notoriamente di fatto di giornate da tutto esaurito, e hanno cercato di ammortizzare le perdite raggiungendo a casa i propri clienti. Agriturismi, trattorie e ristoranti hanno così inventato un nuovo modo di fare ristorazione e tra le tante offerte e proposte, un po' per tutte le tasche, ci sono anche tante offerte di tipologie di menù, compreso quello per gli amanti della cucina di ricerca e gourmet. Sì, abbiamo ideato questo pacchetto che comprende una serie di proposte dall'antipasto al dolce, con anche dei piccoli stuzzichini, per soleticare l'idea che proponiamo anche nel nostro ristorante, cercare di creare dei gusti e adesso arriva la proposta da casa che abbiamo realizzato con vari elementi. I clienti rispondono bene? È una cosa nuova, quindi dobbiamo ancora adattarci tutti. Noi sinceramente abbiamo comunque sempre stati operativi, perché comunque avevamo in mente di cambiare anche il menù, eccetera, e ci siamo focalizzati un po' sulle nuove proposte, un po' su queste proposte qui che abbiamo idealizzato per i clienti. Noi giochiamo molto sulla materia prima e attualmente di pesce ce n'è veramente tanto, del nostro mare, quindi si può giocare bene sui sapori e assolutamente sulla qualità. Basta odio sui social. A fronte di continui attacchi e ingiurie ricevute attraverso i mezzi di comunicazione, il Comune di Pesaro ha deciso di denunciare ogni reato diffamatorio. Devolvendo i risarcimenti per le richieste e danni al fondo SOS Pesaro, recentemente istituito per le famiglie in difficoltà economica. Ci siamo resi conto, si legge in una nota anche alla luce di una escalation del fenomeno haters sul web, delle recenti minacce dell'incolumità dei singoli che alcuni atteggiamenti, se sono ignorati, finiscono per ledere l'immagine e la credibilità dell'istituzione che rappresentiamo. L'efficacia delle nostre azioni, la dignità e la serenità di chi opera a tutti i livelli. E parlando di strutture ospedaliere, tenso strutture per il pre-triage dei pronti soccorso dei presidi ospedalieri dell'azienda Marche Nord sono state donate dall'azienda AC Engineering S.P.A. di Candiracci di Fano per un valore di circa 90 mila euro. Queste due strutture, spiega il direttore generale di Marche Nord, Maria Capalbo, sono fondamentali per la fase post-emergenza. Saranno allestite per permettere di separare i percorsi dei pazienti Covid e non e per contenere al massimo il contagio. Sicurezza per i pazienti e per gli operatori. Presso il presidio San Salvatore di Pesaro e il Santa Croce di Fano, infatti, sono previsti specifici percorsi di pre-triage per individuare tempestivamente i pazienti sospetti o positivi con il Covid-19 e di indirizzarli verso i percorsi dedicati e di evitare al massimo contaminazioni sia tra soggetti in attesa di diagnosi sia contaminazioni intraospedaliere. I moduli donati dalla ditta fanese sono realizzati con materiali altamente innovativi. Per Pesaro sono stati allestiti tre moduli per un importo donazione di oltre 47 mila euro. Per Fano è stato allestito un modulo prefabbricato di circa 50 metri quadri adibito a sala d'aspetto per i pazienti sottoposti a tampone Covid in attesa di esito con 12 posti a sedere distanziati l'uno dall'altro. L'importo della donazione è di oltre 42 mila euro. Cambiamo notizia. Parliamo di una scossa di terremoto di magnitude 2.4 che è stata avvertita alle 4.28 di questa mattina nella zona di Lucrezia di Cartoceto, Calcinelli, Monte Maggiore e di Coli Almatauro di cui è stato l'epicentro e San Costanzo. La scossa è stata preceduta da un rumore prungato proveniente dal sottosuolo mentre il movimento tellurico è stato di breve durata. Diverse le segnalazioni arrivate alla nostra redazione. A Pesaro va avanti la consegna gratuita di mascherine da parte del Comune. Il lavoro di distribuzione terminerà la prossima settimana ma ormai quasi tutte le zone sono state coperte grazie ai volontari di quartiere. Sottolinea il sindaco Matteo Ricci pubblicando su Facebook una foto di alcune squadre all'opera nella Porta a Porta. È un servizio che darà modo di offrire a tutti i pesaresi almeno due dispositivi di protezione a testa. In questi giorni si termina la consegna nei quartieri di Monte Granaro e Muraglia, Soria e Tombaccia, Porto, Mare e Pantano. Entro lunedì partiremo dal quartiere centro, conclude il primo cittadino. In totale saranno distribuite 230.000 mascherine. E cambiamo tono di notizia, la realtà non è quella che vi è stata descritta. Lo affermano i sindacati dei lavoratori di poste italiane che hanno voluto replicare alle dichiarazioni dell'azienda dei giorni scorsi il servizio. Negli uffici postali della provincia di Pesero Urbino sono state adottate idonee misure di sicurezza come l'installazione di pannelli in plexiglass, le strisce di sicurezza per garantire la distanza interpersonale e la sanificazione dei locali. È quanto si leggeva in un comunicato diffuso da poste italiane che la nostra redazione aveva voluto riassumere in un servizio andato in onda lunedì scorso nel nostro telegiornale. Eravamo stati nella sede di via Garibaldi, nel centro storico di Fano, per verificare di persona e intervistare la direttrice. Le cose però, secondo i sindacati dei lavoratori delle poste, non sarebbero tutte così come descritte dall'azienda. Rispetto a quanto asserito dall'azienda, anche nelle ultime interviste, inizialmente non è stata così veloce, come invece ha fatto credere, nell'attivarsi con tutte le disposizioni possibili ad evitare il contagio da Covid. Solo dopo una nostra sollecitazione sindacale questo è avvenuto, quindi sono state distribuite inizialmente le mascherine, poche. solo dopo qualche settimana sono stati installati i plexiglass sempre su nostra richiesta, sia agli sportelli e solo successivamente, sempre alla nostra richiesta, sono stati e saranno installati in tutte le sale consulenze i plexiglass divisori. Quindi c'è stato un work in progress dovuto più che altro alle nostre sollecitazioni all'azienda rispetto a quello che c'era da fare, quello che fino a quel momento non era stato fatto. Stiamo lavorando anche per cercare di limitare la mobilità dei lavoratori tra un ufficio e l'altro, ha proseguito Pazzaglini, questo per diminuire la possibilità di contagio. Dario dite che non ci sono i dispositivi di protezione per i clienti, in realtà li abbiamo visti, quantomeno nell'ufficio postale di via Garibaldi a Fano, ci può spiegare la situazione? La situazione è che i dispositivi di protezione sono arrivati in ritardo negli uffici postali, peraltro sia a livello regionale che a livello provinciale che a livello nazionale c'è stata una forte sollecitazione da parte di noi rappresentanti dei lavoratori affinché l'azienda li consegnasse. Fano aveva gel per le persone, per i clienti, probabilmente un'iniziativa personale di quell'ufficio, oppure magari preparazione di un'intervista che comprendiamo sia necessaria per tranquillizzare le persone. Quello dichiarato da poste italiane dunque secondo i sindacati non rispecchia la realtà. I dispositivi di protezione precisa a Domenici sono arrivati con una certa regolarità soltanto dal 2 aprile, prima dal 10 marzo, giusto un paio di mascherine. Addirittura noi come organizzazione sindacale abbiamo fatto incetta di quello che si trovava sul territorio e l'abbiamo consegnato direttamente ai nostri colleghi lavoratori. Quali sono le vostre richieste? Le nostre richieste sono innanzitutto il chiarimento su cosa è un servizio essenziale. Se posta è stata indicata come un'azienda che fornisce servizi essenziali, bisogna che qualcuno abbia il coraggio di mettere nero su bianco cosa non si può rimandare e cosa si può rimandare. Abbiamo scritto anche al prefetto durante questo periodo perché abbiamo notato che troppe persone approfittavano, ve lo scusa, di andare all'ufficio postale per farsi una passeggiata, per perdere un po' d'aria. Capiamo che le misure restrittive sono pesanti per tutti, ma la salute è un bene prezioso e né bisogna metterla a repentaglio, ma soprattutto bisogna evitare di essere mezzi di contagio per chi lavora. Domani, sabato 25 aprile, venerdì 1 maggio, non sarà consentita l'attività negli orti comunali gestiti dai quartieri come da ordinanza regionale. Infatti fino al 3 maggio la coltivazione di questi orti è consentita solo ai concessionari, quindi non a parenti o coniugi, anche se delegati nei giorni feriali, per un massimo di due giorni a settimana. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro aumentabile fino a un terzo nel caso di utilizzo anche di un veicolo. Naturalmente la vita va avanti e si continua a studiare, ci si continua a laureare, tesi di laurea discusse in via telematica. Mercoledì all'Università Politecnica delle Marte che sono stati proclamati sei dottori in infermieristica che hanno seguito il corso dalla sede di Pesaro. Il servizio di Simona Zonghetti. Aspetti quel giorno per anni, esame dopo esame. Te lo immagini con amici e parenti pronti a festeggiarti, ad abbracciarti, ad applaudirti. Ma per i laureandi al tempo del coronavirus non è andata così. Seduti davanti a un pc o a un tablet hanno dovuto discutere la tesi, non in facoltà, ma soli in una stanza della propria casa. Docenti da una parte, studenti dall'altra, divisi da uno schermo. È in questo modo che mercoledì si sono laureati in infermieristica tre ragazzi e tre ragazze dell'Università Politecnica delle Marche che hanno seguito il corso nella sede di Pesaro. Come Presidente dell'Ordine sono veramente felice perché siamo reduci dalla sessione di laurea ed è una laurea speciale perché è avvenuta online. Una laurea ai tempi del covid provoca anche delle emozioni sicuramente diverse. Come è stata vissuta questa esperienza? Un'esperienza particolare, devo dire, sia per i laureati e anche per la commissione stessa perché sicuramente eravamo abituati a applausi, agli entusiasmi comunque dei loro familiari, vederli nel viso, ha un aspetto sicuramente diverso, un pochino più spento, un pochino più triste, ma questo non deve demotivare perché è una laurea a tutti gli effetti, hanno superato brillantemente la loro sessione e sono ragazzi pronti ad essere messi sul campo e sull'attività. Gli infermieri in questo periodo storico sono stati definiti anche degli eroi, per cui speriamo di vedere anche questi ragazzi il prima possibile in corsia. Sì, sono stati considerati degli eroi, gli infermieri, anche se obiettivamente non siamo degli eroi, siamo dei veri professionisti. Forse siamo stati eroi dei veri superman quando all'inizio non ci aspettavamo questo stato di gravità e forse siamo stati messi ad affrontare una situazione non con tutte le congre protezioni. Oggi le abbiamo, stiamo lavorando e quindi siamo orgogliosi del lavoro che portiamo avanti. Purtroppo però non mancano le critiche. Sì, le critiche alla professione in questi due o tre giorni le sto vedendo, le sto leggendo anche sui social, mi arrivano comunicazioni all'ordine. Di questo sono molto dispiaciute. I cittadini devono stare tranquilli perché oggi più che mai proprio gli operatori sanitari, in questo caso gli infermieri, sono portatori di salute. sanno come non prendere il virus. Quindi sono persone su cui ci si può fidare altamente. Che cosa è stato messo in discussione nello specifico? Leggevamo cartelli siete portatori di virus nel nostro condominio state attenti voi che portate il virus. No, noi non portiamo il virus. Noi lo combattiamo e siamo quelli che sono in grado di saperlo gestire. Ecco, appunto, ribadiva e sottolineava questo aspetto della professionalità per cui un grande in bocca al lupo intanto ai ragazzi che si sono laureati ieri. Sicuramente dei professionisti. Grazie, speriamo di vederli presto sul campo perché sono italiani e a differenza di chi arriva dall'estero sanno parlare l'italiano. Bene, ed ora la pagina della solidarietà con un'altra bella notizia. L'azienda MTP Industrial SRL ha deciso di fare una donazione di mascherine alla protezione civile di Pesero per sostenere chi ha lavorato e per garantire la sicurezza dei cittadini. Un gesto di solidarietà e di vicinanza verso la città di Pesero che, come tutto il Paese, si trova ad affrontare questo delicato momento di emergenza. Insieme, possiamo fare la differenza, hanno spiegato i rappresentanti dell'azienda, e insieme possiamo combattere il Covid-19. E allora andiamo a Terre Roveresche dove l'Associazione Culturale Pro Art ha organizzato un'iniziativa a livello nazionale a scopo benefico dal nome Aiutiamoci con l'arte che consiste nel cedere a titolo gratuito opere d'arte realizzate dagli artisti dell'associazione ma anche da qualunque artista che voglia prendere parte all'iniziativa. Le opere in questione saranno messe in palio tra tutti coloro che faranno un bonifico di importo pari o superiore a 30 euro da effettuarsi a favore della Regione Marche o della Protezione Civile impegnate nella notta al coronavirus. Le opere in palio verranno pubblicate sul sito dell'Associazione e sui social network. E sempre per noi restiamo a casa ma non ci fermiamo. Diamo la buona notizia che Lorenzo Slotescu della seconda MF dell'ITET Bramante Genga di Pesaro è il vincitore per l'Italia dell'European Money Quiz 2020. Condivide questa grande gioia con il suo compagno di classe Stefano Apicella classificatosi in terza posizione e con il loro insegnante il professor Gianmarco Menci. Agli studenti finalisti sono giunti i complimenti della dottoressa Monica Rivelli responsabile dell'area sviluppo progetti e networking internazionale del Feduf la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio la quale ha voluto sottolineare la complessità della sfida anche per il sostenuto numero dei partecipanti ed aggiungere così uno speciale ringraziamento ai docenti referenti e formatori di questa iniziativa e sempre sull'onda della beneficenza della raccolta fondi vi segnaliamo un gruppo di ragazzi di Fano che mediante una raccolta fondi hanno donato tre computer a Marche Nord per un valore di circa 1.100 euro la consegna è avvenuta questa mattina al reparto di medicina la finalità dell'iniziativa grazie alle tante donazioni è stata quella di agevolare l'operato dei professionisti e dimostrare vicinanza e riconoscenza per le attività che stanno svolgendo un gesto del genere che proviene da un gruppo di audaci e generosi persone e ben accetto ha dichiarato il dottor Frausini perché oltre a permetterci una comunicazione più agile rinnova in noi la determinazione e la forza per proseguire il nostro lavoro bene e chiudiamo questa edizione di Occhio alla Notizia ricordandovi che domani sabato 25 aprile ricorre il 75esimo anniversario della liberazione dell'Italia vista l'emergenza coronavirus però non sarà possibile partecipare ai cittadini a questo appuntamento istituzionale che il Comune di Fano aveva programmato come sempre per l'occasione la cerimonia si svolgerà sabato mattina alle ore 10.30 all'ingresso del municipio con la deposizione alla lapide che ricorda il partigiano fanese Giannetto Dini fucilato a soli 17 anni di una corona in onore dei caduti alla resistenza vista l'impossibilità di partecipare a questo momento la cerimonia verrà trasmessa in diretta integrale sul canale 17 di Fano TV a partire dalle ore 10.30 circa e anche sulla pagina Facebook Occhio alla Notizia Bene e con quest'ultima chiudiamo questa edizione della nostra telegiornale non mi rimane altro che augurarvi un buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti